Alla conferenza stampa di presentazione della FAZI, la Fiera Agricola Zootecnica Italiana, non poteva mancare il presidente del Centro Fiera Montichiari, Gian Antonio Rosa. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Questa 92esima edizione della FAZI presenta moltissime novità. Ci vuole anticipare qualcosa? Beh, diciamo che preferisco che le novità vengano controllate in sito da chi parteciperà. Do solo un dato. Abbiamo coperto una superficie di 40.000 m2 di esposizione più tutta la parte esterna dei cortili. Quindi una manifestazione notevolissima come impegno e ripeto, invito tutti coloro che ci ascoltano in questo momento e ci vedono a intervenire nelle tre giornate, il 14, 15 e 16 febbraio. Montichiari, così come il Centro Fiera Montichiari, sono sempre in prima linea nella promozione e nella valorizzazione di un settore importante quale quello primario. Quale pensa che possa essere il contributo di questa Fiera allo sviluppo del territorio? Pensi che il comune di Montichiari è il comune che è la superficie in pianura più estesa della provincia di Brescia. Abbiamo 82 km2 di pianura, quindi lei immagini quanto conti l'agricoltura nella nostra zona, specialmente anche nel comparto di allevamento. Abbiamo degli agricoltori sicuramente all'avanguardia. Che dire, quindi ci aspettiamo una grande partecipazione al Centro Fiera Montichiari dal 14 al 16 febbraio per la Fazi. Invitiamo tutti a intervenire, speriamo che il tempo sia favorevole. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei.